alla vigilia della coppa america che partirà nel pomeriggio di domani mercoledì 11 gli skipper delle imbarcazioni in gara si sono presentati alla stampa raccontando le loro prime esperienze nel golfo partenopeo e le loro prime impressioni sulla città decisamente singolare riferiscono gli atleti la circostanza che le regate si svolgano nel cuore della città cosicché dalle barche è possibile sentire le urla di incitamento dei tifosi come in uno stadio oltre ai massimi rappresentanti di regione comune e provincia alla conferenza era presente il console generale americano donald moore è anche l'occasione per qualche prima considerazione sul lungomare di via caracciolo trasformato definitivamente in area pedonale che a pasquetta è stato invaso da una folla di turisti e di visitatori ben superiori al numero previsto un segnale importante per l'immagine della città che solo un anno fa era sui giornali di tutto il mondo per le desolanti immagini della spazzatura il lungomare liberato dice il sindaco de magistris può essere un'occasione decisiva per il rilancio turistico di napoli io penso a come quel lungomare sarà pieno di bici di pattini di skateboard di sassofonisti di artisti di persone che leggono poesie di poter parlare seduto su una sdraio mangiare un gelato già ieri tutti quanti mi dicevano di non tornare indietro ma del resto io ho deciso ma ha deciso soprattutto il popolo lungomare sarà sempre liberato grazie a tutti